TELENOVA GIORNALE 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 qualche modo non corrispondevano alle nostre. In realtà poi scopriamo anche una serie di documenti, una lettera in particolare del 2010 stesso in cui la Regione avverte il Comune che le tavole che erano state presentate non corrispondevano esattamente alle indicazioni che erano state date col decreto di approvazione. Da quel momento in poi a oggi effettivamente non è più successo nulla, nel senso che non ci sono state altre indicazioni da parte della Regione e la cosa riteniamo sia molto grave. Chiaramente abbiamo subito messo in allerta gli uffici che hanno già iniziato a lavorare e quindi a ricostruire esattamente quelle che erano le indicazioni del decreto, quindi il decreto del 2006, sono passati 7 anni. Il Comune avrebbe dovuto intervenire, quindi produrre questi documenti che avrebbero dovuto essere unici sia per il cittadino che per gli uffici e quindi lavorare su documenti univoci. In realtà tutto questo non avviene soprattutto nei confronti della Regione, quindi adesso il nostro compito è quello di ricostruire un attimino tutto quello che non è stato fatto in precedenza, creare immediatamente, cioè rielaborare immediatamente l'adeguamento e poi verificare le eventuali varianti, se farle in una variante unica generale oppure farle singolarmente, ma questo appunto ci riserviamo un po' di tempo per esaminare bene la questione. Una discarica incontrollata di rifiuti pericolosi con oltre 10.000 kg di amianto. Sono stati i finanzieri della tenenza di Vittoria a sequestrare l'area di oltre 10.000 m2, adibita a discarica abusiva, denunciando a piede libero i proprietari dei terreni che ricadono nel territorio di Vittoria. L'area a poche decine di metri dal centro urbano è stata per anni utilizzata come una vera e propria discarica. Tra i rifiuti diverse centinaia di copertoni, secchi di vernici, frigoriferi, lavatrici, rotoli di guaina, pezzi di autoveicoli, cassette e sedie di plastica, poltrone e una grande quantità di scarti di demolizione. Ma il maggiore allarme è costituito dall'Eternit rinvenuto in diversi punti delle zone, tra cumuli di scheggio e interi lastroni impilati, 10.000 kg di amianto. I rifiuti sono stati identificati e quantificati alle fiamme gialle che sono intervenute con l'ausilio del personale dell'osservatore a rifiuti della provincia di Ragusa. Gli uomini della squadra volante, i poliziotti di quartiere, la squadra mobile e le unità cinofile della Polizia di Stato ieri hanno dato inizio al ciclo di incontri sulla legalità e sulla prevenzione del traffico di sostanze stupefacenti, mediante l'uso dei cani specializzati nella ricerca di droghe di ogni genere. I dirigenti della Polizia di Stato e in forza alla Questura di Ragusa hanno incontrato i giovani studenti di una scuola media del capoluogo per parlare del fenomeno del bullismo e dei reati ad esso correlati. Particolare attenzione è stata prestata dai ragazzi e dal funzionario al cyberbullismo, che è un fenomeno di particolare gravità considerati i rischi della rete internet, accessibile dagli smartphone da parte dei ragazzi anche di giovanissima età. Inoltre, attenzione particolare da prestare all'uso dello scambio di fotografie tra giovani, in quanto spesso si eccede sconfinando nella pornografia, al fine di ottenere in cambio consensi tracotanei o ancora più grave compensi economici, condotte che sono punite molto severamente dal codice penale. Al termine dell'incontro, ben 20 unità della Polizia di Stato si sono recate presso due scuole superiori di Ragusa per effettuare dei controlli a campione sull'uso di sostanze spupefacenti. Il cane Alan in servizio presso l'unità cinofila di Catania ha effettuato numerosissimi controlli e per fortuna non ha rinvenuto alcuna sostanza stupefacente. Il fiuto infallibile del cane ha permesso però di identificare sette giovani consumatori che avevano un forte odore di cannabis sui vestiti e negli zaini. Pertanto, seppur non incappando in alcuna senzione, i ragazzi hanno ricevuto da parte del funzionario della Polizia di Stato i giusti consigli e gli ammonimenti del caso, unitamente al personale della dirigenza scolastica presente. Si è svolto un incontro tra i rappresentanti del Comitato per il rilancio delle ferrovie Iblea, il sindaco Federico Piccitto, l'assessore Stefania Campo e i rappresentanti della CUB Trasporti, Pippo Gurrieri, Salvuccio Ragusa e Giovanni Urso, che hanno promosso questo confronto. L'impegno della CUB Trasporti Iblea e dell'associazionismo è mirato a salvare e potenziare le tratte ferroviarie del Val di Noto, un impegno che ha suscitato anche l'interesse di lega ambiente regionale e nazionale. Infatti, nel recente direttivo regionale dell'Associazione Ambientalista è stato espresso l'interesse a organizzare nel Val di Noto Pendolaria la campagna sul problema delle ferrovie in dismissione sul problema dei pendolari. Gurrieri ha evidenziato lo stato dell'arte a cui si è arrivati al momento nella lotta per il recupero del sistema ferroviario Iblea. Ha illustrato il programma di massima dell'iniziativa che è prevista per martedì 17 dicembre e che dovrebbe coinvolgere tutti i sindaci della provincia ragusana, nonché quelli di Caltagirone e di Gela e poi alcuni comitati pendolari di altre aree della Sicilia. Inoltre ha nuovamente perorato un intervento forte da parte dell'amministrazione comunale di Ragusa per la metropolitana di superficie, visto che il rete ferroviario italiano, pur essendo stata richiesta ben due mesi fa di mettere a disposizione il progetto preliminare in suo possesso, non l'ha ancora reso disponibile. Che fine faranno le maestranze dei villaggi turistici che sono finiti nel mirino delle forze dell'ordine? I lavoratori sono ben 260 persone, più di 150 dell'indotto, per i quali non si sa che sorte avranno nella loro ricollocazione lavorativa per la prossima stagione turistica. Queste le motivazioni alla base della protesta, un sit-in che è durato circa due ore ieri mattina al porto di Pozzallo e che ha visto la partecipazione di molti cittadini pozzalesi. L'accusa principale è per il presidente della regione, Rosario Crocetta, che non ha mai avviato un intervento serio. Il 19 luglio scorso c'era stata la convocazione del tavolo tecnico a Palermo, presiduto dall'assessore regionale al lavoro e dai rappresentanti della CGL Cisle Will a livello regionale e anche provinciale. Noi vogliamo, dice Giovanni Avola, segretario provinciale CGL, un secondo tavolo tecnico per annunciare quello che i lavoratori aspettano da diversi mesi, ovvero un reddito congruo e soprattutto una proposta per il loro ricollocamento lavorativo nei villaggi turistici della costa eblea. È stata aggiornata stasera la seduta del Consiglio Comunale di Scicli che ieri è stato convocato con procedura d'urgenza in prima battuta per discutere di una serie di punti importanti all'ordine del giorno, fra questi la determinazione dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati avviati allo smaltimento e poi la tassa dello smaltimento, sempre dei rifiuti soliti urbani, la cosiddetta Tarsu, l'Imu, l'imposta municipale, l'addizionale comunale IRPEF e infine la modifica e l'integrazione al regolamento comunale per la disciplina dell'imposta municipale propria, cioè dell'Imu. In pratica c'è un bel pacco pieno di balzelli, tasse e tributi per i cittadini sciclitani, aumento del 20% della Tarsu, aumento di 2% percentuali dell'Imu sulla seconda casa e poi il raddoppio dell'addizionale comunale IRPEF. È stato l'assessore al bilancio Sandro Gambuzze a prendere ieri la parola e a spiegare alla civica assise le ragioni che hanno indetto l'amministrazione comunale all'aumento delle tasse comunali. Stasera si riprenderà il dibattito. Con una lettera firmata dal vice sindaco di Ragusa e dal dirigente e dal funzionario del servizio sport del comune capoluogo è stata confermata la decisione dell'amministrazione comunale di consentire alle società sportive che operano nella palestra di via Aldomoro, sotto sequestro per un incidente sul lavoro, l'utilizzo della palestra Umberto I. La scorsa settimana era scoppiata una querelle tra le società di basket che oltre all'Umberto I hanno due palazzetti e lo sport ed una palestra e la pallavolo che invece era rimasta senza alcun impianto avendo solo a disposizione quella di via Aldomoro. Fin quando la struttura sarà sotto sequestro, sequestro avvenuto dopo un incidente sul lavoro, ci si dovrà organizzare in questo modo. Una scelta senza alternativa per consentire a tutti, anche se con qualche restrizione, di fare allenamenti e gare. L'Avis provinciale di Ragusa organizza il seminario di formazione Fantasticamente Avis, percorsi ludico-didattici per le scuole che avrà luogo sabato 30 novembre con inizio alle ore 9 presso l'hotel Torre del Sud di Modica. Testimone d'eccezione l'attore e regista di Rai Yo-Yo, il dottor Oreste Castagna. Sì, alla luce del protocollo d'intesa firmato a giugno del 2012 tra l'Avis nazionale e il MIUR, noi non sostituendoci alle scuole facciamo da supporto con la creazione di strumenti didattici. Nel passato abbiamo fatto il bucchio della solidarietà, orientare alla cittadinanza, cittadinanza e costituzione. Io faccio parte del gruppo tecnico di scuola Avis nazionale e sono pronti già due software multimediali, tant'è che il titolo è percorsi ludico-didattici per le scuole, uno è i fantastici foro cittadini solidali ora e l'altro è il rosso sorriso la meraviglia del donare. Sono due prodotti, il primo indirizzato agli alunni delle scuole secondarie di prima e secondo grado, il secondo indirizzato agli alunni dell'infanzia e della primaria. È un momento importante sabato presso l'hotel Torre del Sud, questo incontro con dirigenti e docenti che si dividerà in due sessioni. Nella prima parte della mattinata ci sarà la presentazione di questi due software con relatori di spessore e che sono stati gli ideatori e creatori di questi due prodotti e nella seconda parte della sessione, nel primo pomeriggio, ci sarà la formazione dei giovani avisini corsisti che verranno dalla provincia di Palermo, di Siracusa, di Catania, li formeremo perché possono andare nelle scuole per sostenere i docenti se dovesse rincontrare difficoltà nell'applicazione di questi software. Grazie a tutti! Grazie a tutti! Grazie a tutti! Grazie a tutti!